E' stato fallita! Servono rinforzi immediati! Corno all'atterraggio! Resisti, Rivas! Stiamo arrivando! Dobbiamo scendere! Guarda! Recevuto! Resistete, arriviamo! Guarda! 10, i ratti sono qui. Adler è al sicuro e diretto a Verdansk. Bene. Dobbiamo fargli credere che ci interessi la fornitura di Nova 6. Contatto visivo! Zona contessa! All'attacco! Valedetto, Laos! Tocca a noi! Coraggio! Restate vivi! Il campo è più a est. Ci stavano aspettando. Cazzo! Se muoiamo adesso, Adler è fregato! Quello ha le palle d'acciaio, ma tutti quanti hanno un limite. Non c'è tempo da perdere! Muoviamoci! Rescontrata anomalia atmosferica. Io... quello che cos'è? Avanti! Guiraria dritta! Ai metto! Mia Mia! Quậy! Carmi! Grazie a tutti. Grazie a tutti.